Buongiorno a tutti, sono Matteo il responsabile sviluppo e produzione degli occhiali sportivi Bertoni Iwer. Oggi vi presentiamo il modello AF79. Questo prodotto è realizzato in nylon mesh, un polimero molto resistente agli urti, flessibile e morbido. È adatto a tutte le condizioni, dalle alte temperature estive al freddo pungente in inverno. In aggiunta al trattamento antiappannante interno sono previsti dei fori di perventilazione forzata. Internamente abbiamo inserito un foam morbido e resistente per aumentare il comfort. L'elastico è regolabile in lunghezza. Per questo prodotto è disponibile il supporto ottico per lenti oftalmiche. Le dimensioni ridotte e compatte del frontale garantiscono una calzata ottimale. Questo modello è disponibile nelle seguenti colorazioni.